Molto, molto perché ci permette di fare un bel balzo in avanti con questi tre punti meritati, importanti, atteggiamento giusto delle ragazze, quindi è giusto sottolineare che grande merito va loro, sia quelle che erano in campo che quelle che sono venute in panchina, sempre positive, pronte, quando sono entrate hanno fatto bene anche loro, quindi credo che questo gruppo sia un gruppo che debba ancora crescere molto, ma nello stesso tempo che abbia dimostrato anche di saperci fare. Sì, perché effettivamente a livello di gioco abbiamo fatto veramente molto bene, solo che eravamo molto prevedibili il primo tempo, il secondo tempo gli ho detto di accelerare un attimino e cercare di riuscire a saltare almeno una compagna per arrivare al dunque subito, così è stato, abbiamo sbloccato la partita con un gran gol di Camilla Dupkova e poi da lì per noi è stato un po' tutto in discesa, nel senso che abbiamo difeso questo risultato, abbiamo raddoppiato, potevamo fare anche il terzo gol in più occasioni, non è venuto però credo che vada bene così, oltre ad aver fatto una grande prestazione, le ragazze hanno anche convinto e questa è la cosa importante. Sì, c'è ancora da lavorare tanto perché, come hai detto te, è un gruppo totalmente nuovo e soprattutto un gruppo giovane è imbottito di tante straniere che a livello tecnico, come ho detto altre volte, sono molto preparate e anche a livello atletico, però a livello tattico devono un po' imparare quello che è il calcio italiano diciamo che oggi si sono comportate bene, la strada è quella giusta, quella è intrapresa e dobbiamo lavorare per cercare di migliorare giorno dopo giorno. Sì, fino a due anni fa erano due o tre le squadre che lottavano per vincere, adesso credo che ci siano alzate a 4 o 5 e questo è il bello del calcio perché alla fine una dietro può andare a fare risultato importante con una davanti e quindi si è livellato e parecchio e questo grande merito, ripeto, va a queste ragazze perché non si risparmiano durante gli allenamenti, sono sempre pronte e quindi anche per noi allenatori diventa, non dico più facile, però è più bello lavorare. Il Milan la conosciamo tutti, è una squadra che l'anno scorso è arrivata terza in classifica, è una squadra che secondo me ha perso delle giocatrici importanti però ne ha messa dentro altre tante e la classifica che ha credo che adesso aspettiamo la partita di domani, però noi adesso come abbiamo sempre fatto dobbiamo andare a giocare le partite a viso aperto perché le ragazze hanno dimostrato di saper tenere il campo e di fare bene partita dopo partita, stiamo crescendo e dobbiamo andare a giocarci la partita senza paura. È una vittoria che fa sia Morale sia ci parte dei punti in classifica che ovviamente fanno molto comodo a noi, è una vittoria che è venuta dopo una prestazione buona secondo me dove in settimana abbiamo provato tanto, ci siamo allenati tanto per raggiungere appunto questa vittoria. Ogni partita come dice il mister è una finale di Champions League per noi, dobbiamo sempre portare a casa questi tre punti, dobbiamo sempre vincere e ovviamente sono difficili sia le partite con le prime cinque della classifica sia con quelle più basse. Beh, finalmente dopo il Mondiale diciamo che hanno iniziato a calcolarci un pochino di più quindi sia dal punto di vista mediatico dove ci sono molti più, dove ci convolgono molto di più rispetto a prima è cresciuto notevolmente. Beh, con il Sassuolo adesso sto iniziando piano piano a prendere forma purtroppo l'infortunio di inizio stagione mi ha un po' tagliato le gambe diciamo e adesso spero di entrare in forma, dare un contributo alla squadra e ovviamente se fai bene in squadra è più possibilità di essere chiamata nazionale quindi ben venga. Beh, è stato inaspettato perché eravamo in ritiro in Olanda con l'Under 23 ci hanno detto dovete andare direttamente dall'Olanda a Castel di Sangro con la Maggiore quindi sono rimasta un po' così però dai, sono stata molto felice e emozionata ovviamente. Eh, il prossimo mezzo sarà tosto però a noi non ci spaventa nulla dobbiamo lavorare durante la settimana per trovare la prestazione giusta.